Estate 2014. Il Milan fa firmare un oneroso contratto da professionista ad un giovane di 16 anni, Akin Mastur. Firma nella sala dei trofei di viaturati con Gagliani. Il trattamento è quello riservato di solito alle stelle. E subito viene convocato in prima squadra da Sidorf. Viene addirittura paragonato a Messi. È considerato il nuovo Messi. È un ragazzo di una tecnica assolutamente straordinaria. A 16 anni diventa anche il marocchino più giovane a vestire la maglia della nazionale. Riuscì anche a incontrare Neymar al Camp Nou, quasi fosse il suo erede designato. Sono passati più di 8 anni e Mastur non è mai riuscito a esordire in Serie A. Oggi gioca nella seconda divisione marocchina. Iscriviti al canale per altre storie come questa.